È sorprendente lei, ma lo vedi anche nelle scelle dell'entusiasmo, perché proprio è contagioso. Prima cosa, finita la gara, quando sono andato a abbracciarla, la prima battuta ha detto hai visto che ti ha combinato la Befanona, c'è anche una capacità di ironizzare, di scansonare tutto e tutti, che è meravigliosa. È chiaro che tutto questo magari ogni tanto gli comporta, perché non è una macchina, non vuole essere una macchina, non deve essere una macchina. Siamo anche forse particolarmente affazionati a lei per questo, però siamo molto orgogliosi di quello che è successo oggi. Discesa libera, femminile, così come quella maschile, sono la gara regina, è inutile legarlo, dove oggettivamente ci saranno tante cose, coraggio, preparazione, storia, quando dico storia c'è tutto lavoro dietro la federazione tecnici.